Quelli che stai vedendo adesso a video sono alcuni esempi di siti che potrai realizzare anche tu subito dopo aver visto questo video corso gratuito su come creare un sito web. Oggi infatti puoi creare siti di questo design innovativo e professionale evitando di pagare mille, duemila o addirittura a volte anche più di 4-5 mila euro per un web designer e per un web developer. Guardando questo video di sito in 20minuti.com hai infatti accesso a questo nostro corso gratuito per realizzare il tuo sito accompagnato da una spiegazione semplice e veloce e in meno di 20 minuti il tuo sito potrà già essere online pronto e operativo. Come ultima cosa ti ricordo che potrai poi trovare tutti i link delle risorse usate nel video comodamente in sovraimpressione e anche qui sotto nelle descrizioni di questo video. Cominciamo subito! Per realizzare il tuo sito web ti servono innanzitutto due cose l'hosting è il dominio. L'hosting è dove verranno caricati tutti i file del tuo sito web mentre invece il dominio è il www.nomedelsitocheseglierai.com oppure .it o quello che preferisci come vedremo tra poco. Incominciamo quindi con prendere l'hosting, ossia dove saranno caricati i file del nostro sito internet. Ma la domanda a questo punto è quanto costerà un servizio di hosting? Beh ovviamente è un costo ma per fortuna costa molto meno di quello che puoi pensare visto che online specialmente su questo sito si trovano veramente veramente degli ottimi prezzi invece di 20 a volte addirittura 30 euro che vengono chiesti da altri servizi qui è possibile avere un servizio di hosting con tanto di diversi vantaggi come vedremo tra poco alla modica cifra di 3,95 euro al mese altro che i 20 o 30 euro che costano mensilmente molti altri servizi. Inoltre questo servizio va bene per le persone che hanno bisogno di un solo sito mentre invece se hai bisogno di più siti troviamo quest'altra offerta un pochino più performante e in successione anche quest'altra che a rigore di logica sarà ancora più performante della precedente. Ovviamente nessuno ti vieterà in futuro di passare da un servizio all'altro quando più lo desideri. Inoltre questo pacchetto è esattamente quello che usiamo in questo video tutorial quindi sarà tutto esattamente come vedrai in questo video e il tuo sito funzionerà alla perfezione. Un'ultima cosa, con questo pacchetto il dominio è già incluso dentro il prezzo già scontato addirittura del 50%, quindi veramente un'ottima offerta. Ed ecco qui quello che vi dicevo proprio poco fa, il dominio è gratuito incluso in questo piano di hosting. Scegliamo dunque e andiamo a inserire qui il nome che daremo al nostro sito, quindi il dominio. Scegliamo a questo punto l'estensione del dominio, sia il .com, il .net, il .org come puoi vedere ce ne sono veramente tanti. Io comunque consiglio sempre il .com perché è l'estensione di dominio più professionale. Clicchiamo poi su proceed e se il nostro dominio sarà per appunto libero andremo allo step 3, verremo rimandati allo step 3, altrimenti come in questo caso avremo diverse opzioni tra le quali scegliere. Se vogliamo ottenere ugualmente il nostro nome di dominio possiamo provare a inserire un trattino, per esempio, oppure magari a cambiare l'estensione, magari con un .it. In questo caso cambiamo direttamente nome e creiamo il sito www.provadimostrativa.com. Clicchiamo dunque su proceed. Ed eccoci arrivati allo step finale, lo step 3. Qui ti basterà semplicemente inserire il tuo indirizzo email, scegliere una password e confermarla per sicurezza, per poi poter completare anche gli altri dati. In particolar modo ti ricordo che lo zip code è il CAP, ossia il codice postale della tua città, mentre invece il company e VAT puoi lasciarli vuoti. First name è il tuo nome, last name è il cognome, siti, la città, street address è il tuo indirizzo e invece phone number è il tuo numero di telefono. Completa poi anche le informazioni di pagamento con il numero e la carta, il mese e l'anno di scadenza, il codice di sicurezza che di norma si trova dietro la carta e il tuo nome e cognome. Nel caso poi avessi deciso di cambiare il tuo piano di hosting puoi farlo comodamente da qui senza bisogno di rifare tutto da capo, però come abbiamo visto teniamo uno startup che per noi va più che bene. Possiamo poi anche cambiare la posizione del nostro data center. Non che sia fondamentale farlo, anzi è completamente irrilevante, però già che abbiamo Londra da selezionare che è tutto sommato più vicino a noi rispetto agli altri paesi, selezioniamola e selezioniamo infine i mesi per i quali vogliamo acquistare il nostro servizio di hosting. In questo caso vengono consigliati 12 mesi anche perché comprare soltanto un mese è estremamente sconsigliato perché lo sconto del 50% verrebbe applicato solo il primo mese e quindi per i restanti mesi che poi andremo ad aggiungere verrà applicato un prezzo non più scontato. Inoltre verrà anche aggiunto un costo di 12 euro per il setup, insomma veramente uno spreco di soldi visto che a conti fatti nessuno fa un sito semplicemente per avercelo online un mese. Con 12 mesi invece potremo ottenere un prezzo molto migliore evitandoci anche delle spese aggiuntive completamente inutili. Come puoi vedere poi qui sotto dei servizi aggiuntivi la registrazione del dominio come detto prima è gratis mentre invece gli altri servizi aggiuntivi non acquistiamoli perché come puoi vedere avranno un costo aggiuntivo. Controlliamo bene tutti i dati nella pagina e infine compriamo il nostro servizio. Ha un prezzo veramente vantaggioso specialmente se consideriamo il fatto che questo di norma è quello che costa un singolo mese mentre invece qui in questo caso comprende non solo l'hosting per ben 12 mesi ma anche il nostro dominio. L'ordine sta venendo processato e a breve verremo reindirizzati su una pagina di conferma. Ecco infatti che il nostro account è appena stato creato e possiamo entrare nell'area dedicata ai clienti. Ed eccoci finalmente nell'area amministrativa del nostro sito. Ora dovremo cliccare su My Accounts per poter poi accedere al cPanel cliccando su Go to cPanel e poi su Proceed. In questa maniera potremo iniziare subito a lavorare il nostro sito ma prima di ciò dobbiamo cercare l'auto installer di WordPress. WordPress infatti è la piattaforma che useremo per realizzare il nostro sito. Sotto la voce Install troveremo la scritta Install Now. La clicchiamo per incominciare l'installazione. L'installazione avverrà in maniera quasi da tutta automatica quindi lasciamo tutto così com'è l'unica cosa che dobbiamo andare ad aggiungere è il nome del sito e la descrizione proprio del nostro sito che stiamo andando a realizzare. Dopo aver fatto ciò se vuoi puoi modificare la tua username e la password magari con qualcosa di un pochino più facile a ricordare e poi mi raccomando salvale in un posto sicuro perché username e password sono proprio quelle che ti servono per entrare nell'area amministrativa del tuo sito onde evitare poi di rimanere bloccato fuori dal tuo sito specialmente per l'inizio non usare l'email amministrativa che ti viene suggerita qui ma usa la tua email principale quella che hai usato per registrarti al servizio di hosting. Come lingua alla fine a meno che il tuo sito non sia in inglese seleziona italiano infine tutto il resto lascialo esattamente come è adesso e clicca su install. Come puoi vedere il sito sta venendo installato non c'è bisogno di niente non devi fare nient'altro se non aspettare che wordpress venga automaticamente installato e tra poco potrai accedere al tuo sito ed ecco qui l'url per accedere al lato amministrativo del tuo sito internet che abbiamo appena creato ovviamente prendetene nota perché soltanto attraverso questa specifica url tramite questo indirizzo potrai accedere all'amministrazione quindi nome del tuo sito .com oppure punto estensione che avrai scelto slash pwp-admin salvatela magari nei preferiti cliccando la vedremo che il nostro account amministrativo è già stato creato e non solo vedrai anche da qui cliccando su visualizza sito che il sito è già online pronto e operativo ovviamente la grafica è ancora un pochino spartana e questo è proprio quello di cui stiamo per andarci ad occupare ovviamente ora che il tuo sito è pronto e online potresti essere tentato di andare su articoli oppure su pagina per incominciare a modificare i contenuti di default magari anche cliccando su modifica direttamente dal sito ecco per adesso non farlo perché il tema che stiamo per andare a installare riscriverà completamente tutti questi contenuti e quindi tutto il tuo lavoro sarebbe perso quelli che stiamo iniziando a vedere sono un insieme di stili grafici che potrai applicare anche tu al tuo sito esattamente tutti questi stili grafici potrai trovarli all'interno di un singolo tema professionale saranno infatti tutti contenuti all'interno dello stesso tema e potrai scegliere in autonomia quale si potrà addire di più allo stile che vuoi dare al tuo sito web come puoi vedere ci sono veramente tanti stili tra i quali scegliere e questi sono soltanto alcuni come avrai già notato molti di questi stili possono andare bene per blog e siti personali mentre invece altri come per esempio gli ultimi che stiamo guardando possono anche andare bene per attività commerciali ed ecco qui il tema di cui stavamo parlando puoi trovare qui sotto nella descrizione di questo video il link a questa pagina dove per soli 60 dollari puoi avere accesso a tutti gli stili che abbiamo visto prima e anche molti di più clicchiamo dunque su buy theme e clicchiamo go to checkout inserisci dunque il tuo nome, il cognome e il tuo indirizzo email e poi clicca su next dopo aver scelto il tuo nome account, la tua password ed aver completato la verifica clicca qui per accettare i termini e le condizioni e crea un account a questo punto non ti resta nient'altro da fare che inserire il tuo nome, il cognome, il tuo indirizzo, la tua città e selezionare Italia per poi poter cliccare su salva e continua ultimo passaggio è proprio quello del pagamento è stata ovviamente aggiunta a live italiana e puoi decidere se pagare comodamente con paypal oppure tramite carte di credito clicca su checkout with paypal per completare il tuo ordine subito dopo il pagamento avrai accesso immediato al prodotto e potrai scaricarlo se così non fosse o se dovesse avere dei problemi ti basterà semplicemente andare su download e cercare il prodotto da scaricare appena trovato con un semplice clic su download e poi su installable wordpress file only potrà iniziare il download del tema torniamo dunque sul nostro sito e prepariamoci per vedere per l'ultima volta per salutare questo tema della grafica veramente obsoleta torniamo dunque nell'amministrazione e clicchiamo su aspetto temi clicchiamo quindi su aggiungi nuovo e su carica tema avendo scaricato esclusivamente il file installabile di wordpress ora dobbiamo semplicemente andarlo a caricare si tratta di una cartella compressa di un file zip essendo un file installabile di wordpress andrà più che bene caricata così clicchiamo su installa ora e l'installazione inizierà come puoi vedere il tema è stato installato correttamente ora però prima di fare qualunque altra cosa dobbiamo cliccare su attiva altrimenti il tema non verrà attivato e verrà usato ugualmente il tema di prima ed ecco che siamo stati rimandati nell'interfaccia delle opzioni del tema come puoi notare è anche stata aggiunta questa voce al nostro menu e tutte le volte che vorremmo tornare qui a fare qualche modifica come puoi vedere c'è veramente tanto che si può modificare ti basterà semplicemente cliccare su questa voce in menu è proprio da qui che possiamo selezionare lo stile il design che vogliamo usare sul nostro sito per farlo ci basterà semplicemente cliccare su importare demo come potrete poi anche voi vedere ci sono veramente veramente tante demo tra le quali scegliere ora selezioniamone una abbastanza semplice anche per farvi vedere con semplicità come funziona il tutto dopo aver cliccato su clicca per importare diamo l'ok e aspettiamo l'installazione del tema questo messaggio ci notifica dell'avvenuta installazione e ora saremo rimandati nelle impostazioni generali del tema dove potremo anche modificare il logo e fare diverse modifiche al nostro sito come per esempio il layout per quello che riguarda il layout e quello che riguarda anche i colori e lo stile ed ecco il nostro sito online come si presenta installazione ultimata come puoi vedere ci sono veramente tante sezioni all'interno dell'home page alcune di queste ci serviranno ovviamente modificandole molte altre non ci serviranno e quindi vedremo come rimuoverle con un editor veramente semplice ed intuitivo ovviamente stessa cosa vale anche per il menu alcune voci non ci serviranno e le toglieremo altre invece vedremo come modificarle cominciamo però a modificare questa pagina per esempio incominciamo magari aggiungendo altre di queste tre iconcine vogliamo aggiungerne altre tre qua sotto vogliamo poi togliere questa immagine e allo stesso tempo vogliamo anche togliere questi feedback che girano quindi clicchiamo su editare pagina iniziale ed ecco il nostro editor se vogliamo rimuovere un elemento dal sito ci basterà semplicemente andare sopra e cliccare X esattamente in questa maniera riusciamo a togliere le testimonianze che non ci interessavano quindi questa voce di menu e il relativo blocco se invece vogliamo duplicare quindi aggiungere altre tre voci come queste qui ci basterà semplicemente duplicare queste colonne quindi la prima, la seconda e l'ultima, la terza e magari cliccando possiamo anche selezionare delle altre icone oppure possiamo anche modificare il testo ed apportare differenti modifiche clicchiamo poi su salva infine su aggiorna ed ecco la nostra pagina come si presenta modifiche completate come puoi vedere ora sono presenti le sei icone abbiamo tolto anche l'immagine a centro pagina che non ci interessava e anche i testimonial sono stati rimossi dalla nostra home page guardando le altre pagine nel menu troviamo una pagina di esempio che tutto sommato non ci interessa mantenere my work che anche in questo caso non è che ci interessi particolarmente avere il blog in questo caso possiamo tenerlo la pagina di contatto decisamente about possiamo decidere a nostra discrezione se tenerlo oppure meno tutte queste cose sono personalizzabili vi ricordo sempre e service in questo caso io farei che toglierlo vediamo dunque come fare in questo caso basta semplicemente cliccare su personalizza e verremo rimandati sulla pagina che ci permetterà di fare queste modifiche clicchiamo quindi su menu come posizione del menu selezioniamo il main menu e vediamo che molte pagine saranno già andate a modificarsi torniamo indietro e cliccando su main menu possiamo cambiare l'ordine come puoi vedere ora l'ordine è stato invertito semplicemente spostando queste voci di menu e invece cliccando su questo triangolino si apre tutta questa finestra dove possiamo modificare il nome quindi invece per esempio invece di service possiamo scrivere servizio visto che il nostro sito è in italiano ed ecco che la voce di menu ha cambiato titolo ovviamente invece per quello che riguarda il titolo della pagina lo possiamo modificare proprio come abbiamo visto poco fa dall'editor della pagina per quello che riguarda invece la rimozione delle pagine che non ci interessano come per esempio questa basterà cliccare semplicemente qui in basso su rimuovi ed ecco che la voce di menu scomparirà cancelliamo poi anche in questa maniera la voce di menu my work e infine salviamo e pubblichiamo le nostre modifiche come puoi vedere il menu del sito è stato aggiornato tuttavia le pagine sono comunque ancora presenti semplicemente non sono più nel menu per toglierle ti basterà andare su pagine all'interno dell'amministrazione del sito tutte le pagine e da qui potrai cestinare tutte le pagine che non sono più utilizzate durante il processo di eliminazione stai attento a non sbagliarti a cancellare la front page questa infatti corrisponde alla tua pagina iniziale e come puoi vedere ora è scomparsa per ripristinarla nel caso dovessi esserti sbagliato puoi andare su cestinati e direttamente ripristinarla con un semplice click direttamente da qui ora facendo un f5 ossia un refresh della pagina tutto sarà tornato alla normalità come puoi vedere qui in alto è anche presente una pagina che mostrerà tutti gli articoli del tuo blog in questo caso sono già stati caricati degli articoli di prova anche con un audio e anche un altro con un video e per rimuovere questi articoli di prova e iniziare magari anche in un secondo momento pubblicare i tuoi ti basterà rientrare nell'area amministrativa e questa volta non andare in pagine bensì in articoli tutti gli articoli e selezionare tutti gli articoli pubblicati sposta nel cestino e cliccare su applica in questa maniera il tuo blog sarà vuoto e se andremo nuovamente alla sezione blog del nostro sito potrai vedere che è completamente vuoto e sarà pronto per ricevere i primi articoli del tuo sito cliccando infatti sulla voce aggiungi nuovo potremo iniziare a scrivere un nuovo articolo dopo aver inserito il titolo e del testo dell'articolo e averlo pubblicato potremo vedere che esso si troverà all'interno del nostro blog e cliccandolo si aprirà in una nuova pagina ma come fare per modificare le scritte alla fine di ogni pagina? beh per farlo ti basterà semplicemente tornare nell'amministrazione e andare su aspetto widget ed ecco qua proprio le quattro colonne che vogliamo modificare per farlo ci basterà selezionare la prima e iniziare a modificarla oppure semplicemente se decidiamo di volerne eliminare una ci basterà cliccare qui e infine su elimina se invece non volessimo proprio più vedere quella sezione possiamo direttamente andare da Enfold, piedi pagina e selezionare non visualizzare il socket e widgets del piedi pagina clicchiamo, facciamo save e tornando sul sito e facendo un F5 o ricliccando su home page andando in fondo vedremo che non comparirà più niente ovviamente per modificare tutte le altre pagine ti basterà cliccare su modifica pagina e selezionare l'elemento che vorrai modificare per sostituire come per esempio in questo caso l'immagine in alternativa puoi diminuire la dimensione di un contenitore per espanderne un altro ricordati poi di aggiornare per salvare le modifiche da qui possiamo modificare il colore azzurro che vedevamo sullo sfondo selezioniamo per esempio questa sfumatura di rosa clicchiamo su salvare e su aggiorna e come potremo vedere ora questo contenitore avrà preso il colore rosa nel suo sfondo per quello che riguarda ovviamente questa pagina per modificare qualunque testo ricordati che la procedura è sempre la stessa cliccare su modifica pagina poi cliccare sull'elemento ed editarlo ovviamente con questo editor puoi anche creare una nuova pagina da zero inserendo innanzitutto un elemento di layout e poi inserendo i vari contenuti allo stesso modo puoi anche usare questo editor per creare nuovi articoli come sempre cliccando qui si attiva l'editor avanzato di layout dopo aver creato una pagina di prova come puoi vedere anche aggiornando il sito e ricliccando su home questa non compare nel menu per raggiungerla al menu ti basterà semplicemente andare in aspetto menu selezionare la pagina che vuoi aggiungere al menu ed eccola che verrà aggiunta in fondo puoi ovviamente cambiare l'ordinamento o creare una voce di sottomenu spostandola un pochino a destra in questa maniera salviamo il menu e come potremo vedere in questo caso nel sito la pagina verrà indicata come sottovoce di menu altrimenti potremo ripristinare la situazione iniziale risalvare il menu aggiornare la pagina ed ecco che verrà aggiunta in fondo al menu come ti renderai presto conto potranno servirti altre informazioni come per esempio come fare per comparire su google come arrivare in alto nei primi risultati dei motori di ricerca come far arrivare traffico al tuo sito web e magari potrebbe incuriosirti anche un argomento di grande interesse per sempre più persone come fare per iniziare a guadagnare con il tuo sito in maniera veloce e pratica con dei metodi step by step oppure magari potresti anche essere interessato degli altri corsi su wordpress insomma se ti interessa anche soltanto uno di questi argomenti ti consiglio di andare nella nostra sezione corsi su sito inventiminuti.com per poter avere accesso a tutte queste informazioni spero di rivederti nel prossimo video corso ti aspetto infatti su sito inventiminuti.com ciao e a presto